allora buongiorno buongiorno a tutti oggi facciamo due spaghetti con due spaghetti con tonno aglio e peperoncino veloci veloci allora stasera stasera facciamo due spaghetti con aglio olio peperoncino e tonno ok veloce veloce un po due spicchi d'aglio un po di peperoncino un goccio d'olio un po di tonno facciamo andare avanti per un po due tre minuti e questo è pronto quindi spegniamo appena la pasta è pronta appena la pasta è pronta mettiamo tutti in padella e abbiamo finito buon appetito a tutti e buona giornata ed ecco la nostra i nostri spaghetti con tonno e peperoncino che sono pronti un po di parmigiano reggiano e buon appetito a tutti